buonasera a tutti benvenuti in un nuovissimo video e benvenuti soprattutto in una week in outfit in cui vi mostro gli outfit che ho indossato la settimana scorsa ci tengo a dire una cosa ho praticamente registrato tutti gli outfit oggi perché ho avuto un disguido con i video che avevo registrato perché li avevo registrati col telefono non erano venuti bene non mi piacevano molto così questa mattina mi sono detta sai che c'è facciamo che registro tutti gli outfit al momento quindi vedrete tutti gli outfit registrati oggi perché la settimana scorsa c'era un tempaccio e quindi la luce quell'interno della stanza era molto cupa non si riusciva a registrare bene neanche con le luci e i video sono venuti un po così quindi non mi piaceva l'effetto e ho preferito appunto registrare nuovamente tutti gli outfit come fosse una week in outfit ma sappiate che insomma sono stati registrati oggi ecco ci tenevo a dirvelo per correttezza comunque gli outfit sono quelli che ho indossato appunto la scorsa settimana bene niente io vi lascio direttamente alla week in outfit e ci vediamo dopo per i saluti finale allora eccomi questo è l'outfit del lunedì lunedì pioveva ha fatto un tempo assurdo era proprio brutto e c'è tanta umidità quindi ho scelto di mettere un maglioncino così dolce vita questo qui è di only l'ho acquistato su amazon fra poco c'è anche il black friday quindi se vedete qualcosa che vi piace vi conviene parlo proprio anche di amazon ma generalmente vi conviene appunto aspettare il black friday comunque io vi lascio tutti i link qui sotto detto black friday allora appunto maglioncino così questo è super morbido è in viscosa mi sembra ecotone elasticizzato nella parte sotto ho messo il pantalone questo qui di h&m con le pants frontali questo è davvero bellissimo mi piace un sacco è un pantalone che cade molto bene sulla figura mi piace proprio per questo se vedete i pantaloni con pants non cadono tutti uguali dipende sempre dal tessuto mi riferisco anche a quelli di stradivarius che non mi stavano bene quindi ho reso ad ogni modo spero si veda alzi un pochino la luminosità allora ad ogni modo come cintura sono andata a mettere questa cintura qui di tommy heilfeiger e anche questa l'ho acquistata su amazon stivaletti vivaya che sono super super comodi questi idro repellenti quindi sono perfetti per le giornate di pioggia li adoro anche perché sono di una comodità unica e per quanto riguarda gli accessori sono andata a mettere questi orecchini del brand casetta di marzapane bijou li trovate linkati sotto e ho un codice sconto perenne per i loro gioiellini quindi se vi va andate a dare un occhio e per quanto riguarda il braccialetto invece ho un bracciale in acciaio che mi è stato regalato da leonardo per il mio compleanno quindi questo è quanto ora vi mostro anche cosa indosserò come capospalla allora dato che piove avevo messo anche il cappellino mi piace molto inserire accessori del genere sportivi magari abbinati a cappi così eleganti mi piace un sacco il contrasto quindi questa è una mia caratteristica del mio stile è fare proprio questi contrasti non tanto di colore ma magari proprio dei contrasti nello stile per quanto riguarda il capospalla quale giornata migliore per utilizzare un bel trench questo qui me lo chiedete sempre è vecchissimo è un trench di H&M purtroppo non c'è più nel loro sito è un peccato perché è meraviglioso questo qui oltre ad essere proprio bello fatto bene ha anche la particolarità di essere piuttosto spesso quindi va bene anche per l'autunno inoltrato per quanto riguarda invece la borsa ho indossato questa qui di Twinset che è una borsa insomma semplicissima ma tela a sé a tracolla che andrò poi a mettere a tracolla questo è stato il look del lunedì allora martedì mattina questa mattina alle 7 un diluvio assurdo poi alle 8 si è dischiarato è uscito il sole e c'erano 20 grandi quindi maglioncino leggero questo qui è della linea Amazon Essenza l'è in cotone e viscosa questo qui ve lo consiglio questi maglioncini qui sono favolosi per la mezza stagione io mi trovo benissimo li utilizzo anche d'inverno li potete utilizzare anche sotto i maglioni perché sono leggeri però comunque tangono un sacco di caldo poi infilato all'interno dei pantaloni nella parte sotto ho messo questi pantaloni qui di Zara che sono di due anni fa e li trovate uguali anche da Stradivarius ai piedi ho indossato le decoltè di Vivaya queste qui con il tacco a goccia che sono favolose sono comodissime ma sapete che amo le scarpe Vivaya sono super super comode poi per quanto riguarda gli accessori sono andata a mettere questo paio di orecchini del brand Anna Luisa questi qui sono degli orecchini in argento se non erro e sono fatti a forma tipo di quadrato sono davvero super carini e semplici collanina del brand Chiga Design che si abbina all'orologio uguale trovate il set su Amazon e per quanto riguarda il bracciale è quello che indossavo ieri che è il bracciale in acciaio che mi ha regalato Leonardo per il compleanno vediamo adesso il capospalla come capospalla sono adatta a mettere il giaccone questo qui oversize di Stradivarius e che è di questo grigio scuro quindi va ad abbinarsi insomma al colore dei pantaloni al nero sotto del maglioncino come borsa sono andata ad indossare questa borsa qui che è di Parfoua ed è una borsa a mano e sono andata ad indossarla per dare un tocco di colore al look perché poi se guardate è dello stesso colore delle mie unghie quindi c'è stato ho voluto fare questo abbinamento questo è il look finale allora mercoledì eravamo a pranzo dei miei il tempo era bello era il primo di novembre il tempo era bellino stava bene non faceva troppo freddo dai miei c'è la stufa quindi si muore di caldo infatti sono andata a mettere un toppettino nero semplice sotto di questi qui a costine che quindi stavo fresca e questo cardigan così tutto buccherellato questo qui è di H&M preso credo questa primavera più o meno per quanto riguarda la parte sotto ho messo la mia cinturina Ralph Lauren e gli ultimi jeans acquistati di Stradivarius questi qui a gamba dritta un pochino larghi e per quanto riguarda invece le scarpe sono andata a mettere queste scarpe sempre del brand Vivaia perché oggi voglio stare super super comoda e sono delle scarpe bicolor single Chanel ma guardate la bellezza cioè io le adoro sono bellissime e mi piacciono un sacco poi abbinate anche alle righe le adoro abbinate alle righe mi piacciono da morire e basta quindi molto semplice per quanto riguarda gli accessori ho indossato questi orecchini qui del brand Vesica e basta non ho indossato altro perché appunto eravamo dei miei giornata tranquilla quindi non avevo voglia di mettere addosso chissà cosa avevo anche fatto raccolto i capelli così in una coda bassa e mi ero anche truccata pochino come capospalla avevo messo il bomberino di Stradivarius questo qui che vi ho mostrato nell'ultimo haul e poi come borsa ho messo la borsa rossa perché mi piace un sacco con questi colori e trovo stia bene poi va a dare un po' di contrasto al look quindi mi piaceva l'idea di mettere la borsa rossa così che trovo stia molto bene anche con le scarpe allora giovedì giovedì il tempo era bruttino pioveva anche giovedì e faceva un po' freddo quindi sono andata a mettere questo maglione del brand Lily Silk che tiene un sacco di caldo ed è un maglione ampio bello morbido è uno di quei maglioni che proprio ti si coccola addosso mi piace un sacco e poi nella parte sotto sono andata a mettere la gonna in jeans lunga nera questa qui di Stradivarius ai piedi stivaletti sempre del brand Vivaya perché piovendo sono perfetti e poi hanno un tacco che non si sente come vi dicevo sono super super comodi adesso vi mostro anche il capospalla anzi prima vi dico cosa ho indossato come come accessori ho indossato questi orecchini del brand Vesica e stessa cosa per quanto riguarda la collana la collana è questa qui un pochino spessa quindi ho messo degli orecchini così a goccia un po' più sobri e una collana un po' più grossa che si vedesse non ho messo nient'altro come giacca ero andata a mettere questa giacca qui del brand di OAS questa è una giacca super carina che ha tipo questo tessuto in lana cotta ed è davvero super bella sembra una pecorella e niente è super carina di questo verdone ha tutti questi bottoni tipo ottone con al centro una perlina che insomma dà questo dettaglio al look e tiene anche caldo come giacca è perfetto insomma come giacca da mezza stagione mi piaceva un sacco questo verde così un po' importante per quanto riguarda la borsa sono andata a mettere la mia borsa twinset semplicemente perché è quella più comoda che ho con cui mi trovo meglio quindi vi mostro la giacca perché mi sembrava la luminosità un pochino bassa la giacca questa qui è super super carina allora venerdì è stata una giornata un po' così nel senso che c'era tantissima nebbia al mattino io avevo piuttosto freddo in realtà non è che facesse freddo c'era semplicemente tanta umidità e io mi sentivo un po' raffreddata così in più avrei dovuto passare la giornata davanti al computer quindi sapevo che avevo bisogno di qualcosa che mi tenesse al caldo quindi semplicemente ho messo una semplice t-shirt sotto bianca e sopra sono andata a mettere questo cardigan anche questo della linea di OAS che è super peloso ed ha un colore bellissimo questo qui l'avete visto in un video forse nella presentazione di un video avevo questo questo cardigan qui ed è appunto di questo colore che è un colore meraviglioso che mi piace un sacco mi stia molto bene ecco faccio anche la modesta quando sono un po' così decisamente indosso i wide leg jeans perché sono secondo me uno dei pantaloni più comodi al mondo e venerdì ero tentata di mettere le sneakers poi mi son detta ma si senti visto che ho anche gli stivaletti blu di vivaia mettiamo gli stivaletti blu e infatti ho fatto bene perché sono stata comoda insomma e sono come quelli neri semplicemente l'unica cosa l'unica differenza che hanno una striscia nera sono di un blu scuro proprio che comodità ragazzi mi piacciono un sacco con i jeans vado a farvi vedere che cosa avevo indossato come capospalla allora come capospalla avevo messo il trench e come borsa ero andata a mettere questa borsa qui che conoscete bellissimo la mia valentino bag quando non ho voglia così di vestirmi diciamo che non ho troppo sbatti come dicono i giovani al giorno d'oggi per quanto riguarda gli accessori vado semplicemente a mettere solo questi orecchini questi qui sono proprio gli orecchini di quando non ho voglia di vestirmi perché sono leggeri non pesano però comunque sono un pochino di impatto quindi anche se io sono un po' così così danno quel tocco in più insomma diciamo al look tutto lì il look completo è questo allora sabato sera fuori c'era un tempo terribile e era freschino noi dovevamo andare a casa di amici però a casa di questi amici dovevamo andare lì a cena e poi mangiare le castagne però loro hanno il caminetto e a casa loro si muore letteralmente di caldo quindi non potevo mettere maglioni quindi ho indossato una camicia in seta questa qui è di Lily Silk e sono andata ad indossarla in questo modo facendo l'intreccio e facendo insomma il nodo così un pochino accorciandola perché poi sotto sono andata mettere la gonna quella che vi avevo fatto vedere di H&M che volevo acquistare che era questa gonna qui elegante lunga con spacco frontale e con queste linee davanti che segnavano un pochino il punto vita mi piaceva un sacco l'ho presa e devo dire di essere super super contenta perché è una gonna molto elegante sotto ho indossato gli stivaloni perché sabato sera con quel tempo lì ho indossato i miei stivali vi lascio il link anche di questi sotto in info box e come borso ho indossato la borsa rossa perché sapete che adesso l'ho lasciata in fondo poi ve la faccio vedere mi piace un sacco indossarla con le righe comunque adesso vado a prendere anche il capospalla e vi mostro tutto il look eccoci qua allora come borso ho indossato questa che secondo me ci sta molto molto bene e come capospalla sono andata a mettere questa giacca cappotto qui di qualche anno fa di H&M a spina di pesce mi piace tantissimo abbinata alle righe di questa camicia trovo che siano due fantasie diverse ma che assieme stanno molto bene in più con la borsa così del vero martini rossa mi piaceva proprio tutto il look e il contrasto basta semplicemente questo sabato sera è andata così e adesso vi mostro l'ultimo look che è quello della domenica allora domenica è stata una giornata meravigliosa l'unica cosa che dovevamo fare domenica era andare alla partita di calcio di Cristian e Leonardo Cristian gioca Leonardo aiuta il mister di Cristian con i bambini aiuta ad allenare anche lui insomma bene quindi io sono partita da casa alle nove e mezza del mattino o meno venti insomma alle dieci alle meno un quarto avevo la partita e mi sono vestita così sopra sono andata poi ero andata poi a mettere la giacca che vi ho mostrato di sabato sera quindi come capospalla appena ho messo piede fuori di casa l'ho tolta immediatamente subito domenica era un caldo mostruoso io ho sofferto tantissimo ad un certo punto ero in maniche corte cioè ci saranno stati 22 gradi una cosa pazzesca allora avevo messo questa t-shirt semplicissima sotto una semplice t-shirt cropped ho messo i pantaloni in pelle in finita pelle scusate sotto che sono questi qui di H&M dell'anno scorso che sono bellissimi mi piacciono un sacco e avevo messo le sneakers per andare a vedere la partita e poi sopra semplicemente giacca monopetto così un po' larga sempre di H&M questa qui grigia che è quella nuova che vi ho mostrato nel video all basta come accessori avevo messo gli orecchini di Anna Luisa questi qui un pochino pendenti con la pietra nera la collana la collana scusate questa qui piatta girocollo che ho preso su Amazon e per quanto riguarda il bracciale è sempre il mio solito bracciale bracciale plecato oro di Amazon basta questo è stato quello che ho ino sotto domenica borsa la mia semplicemente borsa twinset l'unica e sola quella che utilizzo costantemente anche se devo dire che la settimana scorsa sono stata molto molto brava perché ho cambiato sempre le borse e anche le calzature quando registro la wicking outfit o devo comunque registrare la wicking outfit diciamo che sono un po' più invogliata a cambiare soprattutto le borse niente questo è quanto eccoci per i saluti finali io vi ringrazio tantissimo per aver visto il video se il video vi è piaciuto lasciate un bel like lasciate i vostri commenti fatemi sapere qual è stato l'outfit che vi è piaciuto di più io vi ringrazio tanto vi bacio e vi abbraccio in info box vi lascio ancora i link delle candele Ava e May mi raccomando perché la promozione è ancora in corso quindi se ne avete voglia approfittatene perché avete uno sconto del 50% che non è proprio poco quindi niente basta così ciao a domenica a domenica a domenica a domenica